Adesso verifichiamo che sono otto gli antinodi che si trovano qua dentro il tubo. Quindi, iniziamo dal fondo, qui c'era quindi il primo antinodo, qui c'è il secondo antinodo, qui più o meno c'è il terzo antinodo, sono più o meno equidistanziati, quindi qui c'era il terzo, qui c'è il quarto e la distanza tra questi antinodi e lo sappiamo di mezza lunghezza d'onda, qui c'è il quarto, il quinto, qui c'è il sesto, il settimo antinodo sta qua e l'ottavo non lo possiamo raggiungere perché sappiamo che l'ottavo antinodo sta sempre sul tappo e il microfono non può arredrare fino al tappo, comunque il settimo antinodo era qui e l'ottavo è esattamente sul tappo, non ci si arriva perché il microfono non può arredrare, quindi ci sono otto antinodi e sono distanziati esattamente di mezza lunghezza d'onda.